Buongiorno, buon sabato. Ben ritrovati con Mattino 6, l'appuntamento mattutino della nostra redazione per sfogliare i giornali dei principali quotidiani nazionali e locali e anche sportivi per vedere quali sono le notizie più importanti che riguardano il nostro paese ma nello specifico poi soprattutto della nostra regione. Iniziamo come di consueto nella prima parte dalle prime pagine partendo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Partiamo con l'edizione di Pescara che poi approfondiremo nella seconda parte. Il titolo è Maxi sconti per aiutare il commercio. Carte fedeltà per lo shopping, le iniziative del comune per i negozi del centro. In alto un richiamo al campionato di Serie A che riparte oggi, riparte lo show della Serie A. Subito in campo la Juventus campione d'Italia e il Napoli che è la più accreditata concorrente dei bianconeri nella lotta per lo scudetto. Poi ovviamente nella fotonotizia non può che esserci il richiamo agli atti terroristici che hanno colpito Barcellona. Terrorismo, altri attacchi all'Europa e intanto l'Italia piange le sue due vittime che sono Bruno Gulotta di Legnano e Luca Russo di Bassano del Grappa. Entriamo nelle cronache dell'Abruzzesi e in particolar modo in questa edizione proprio della provincia di Pescara. Parliamo di sanità, allora andiamo all'ospedale di Pescara. L'oncologo Garufi serve, dice, un hospice più grande. Scendiamo sempre in pagina e sempre a Pescara una storia come purtroppo ce ne sono tante, soprattutto di questi tempi. Ascensore rotto, disabili bloccati in casa da giorni. E invece una notizia particolare, anche molto bella, pensionata. Prende tre lauree in quattro anni, si tratta di Elisabetta Tatonetti. Allora, complimenti soprattutto per il percorso di studi davvero molto molto interessante. Andiamo alla politica internazionale. Stati Uniti, perché il presidente Donald Trump licenzia lo stratega Steve Bannon. In Abruzzo, invece, dati export, crisi alle spalle, superati gli 8 miliardi. Il Gran Sasso, sentieri e ferrate, fine lavori entro settembre. E poi siamo in estate, dunque periodo anche di tantissimi eventi. Per la musica, i Tiro Mancino, oggi in concerto a Popoli. Cambiamo edizione, andiamo su quella di Teramo. Cambia ovviamente l'apertura, ucciso e bruciato, la pista dei Balcani. Nuovi elementi dalle indagini sull'omicidio dell'artigiano di Silvestre scomparso a novembre. Dunque, cronaca giudiziaria in apertura. Cronaca invece, anche nelle cronache, aveva sei chili di droga in casa. Erano per la costa vibratiana, questo maxi operazione del nucleo operativo di Teramo. E poi, sempre a Teramo, riguarda le comunicazioni. Teleponte sospende le trasmissioni. A Giulianova, Eliana, il relitto, fallisce. Il primo recupero del peschereccio, che lo scorso 26 luglio fece, purtroppo, due vittime a Giulianova. Andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Anche qui, ovviamente, cambia il titolo. Bando disabili, scoppia la polemica. Lavori da frezatori e meccanici, petaccia, mansioni impossibili, quelle proposte dalla provincia. A Vasto, boom di turisti in città, centomila le presenze. Davvero un pienone a Vasto per gli eventi estivi. A Lanciano, iscrizione a scuola e caos per i vaccini. E poi per il calcio, Candeloro, che promette un Francavilla in serie C in breve tempo. E questo è il nuovo presidente del Francavilla, Gilberto Candeloro. Chiudiamo le quattro edizioni con quella che riguarda l'Aquila e la provincia dell'Aquila. Per donanza con il Metal Detector, l'Aquila a vertice in prefettura per la sicurezza. Rassegna Jets e altri eventi saranno assolutamente blindati. Entriamo nelle cronache. Domani la commemorazione Eccidio del Morrone. Una tragedia lunga, 20 anni. Si torna a parlare di sanità. Andiamo ad Avezzano, Asl, un medico in più per il pronto soccorso. E all'Aquila l'incendiario in carcere addirittura brucia anche la cella. Cambiamo giornale adesso. Andiamo sulla città, poi andremo sul messaggero. Sulla prima pagina del messaggero. Ovviamente siamo in provincia di Teramo. Nuova protesta per le scuole sicure. Le mamme teramane diffidenti sull'esito delle verifiche sismiche. Si dicono pronte a scendere in piazza. Un argomento molto sensibile. Soprattutto perché la riapertura delle scuole è dietro l'angolo. E poi la proposta di Leandro Bracco. Una app per salvare le donne dal femminicidio. Purtroppo una delle cose che sta accadendo più di frequente è il femminicidio. E che questa app si propone quantomeno speriamo di limitare. La fotonotizia del quotidiano della provincia di Teramo è la strigliata di Renzo di Sabatino. Ovviamente presidente della provincia. Lettera di richiamo a funzionari e dirigenti. E poi entriamo all'interno delle cronache locali. A Tortoreto autista del TIR indagato per l'omicidio stradale che ricorderete dell'altro ieri. Proprio sull'autostrada A14. Per la cronaca beccato il pusher della costa Teramana. Il turismo è di tutt'altro segno. Abbiamo visto a Basto il grande successo. Turismo in crisi invece. Il PD rosetano chiama in causa la regione. A Fano Adriano invece in basso salvato dopo un volo di 5 metri. E a Barcellona la testimonianza. Ho visto il terrore sui volti della gente che fuggiva. Veramente una testimonianza molto forte rispetto a chi è capitato purtroppo dalle parti di Barcellona proprio nel giorno in cui ci sono stati gli attentati. Vediamo di aprire la pagina del messaggero Abruzzo in un file differente in modo da potervela proporre. Eccola qua. Subito le case di emergenza. Questa è l'apertura del messaggero Abruzzo. Terremoto da Alfonso in videoconferenza con il capo della protezione civile Borrelli. Abbiamo bisogno di almeno 225 moduli abitativi. Lunedì incontro decisivo con il premier Gentiloni. A Giulianova riti satanici dopo la denuncia del consigliere proprio Leandro Bracco. Spuntano anche le prove. Eventi giorno e notte. Spoltore ensemble con nada. Serata di chiusura in grande stile. Poi per lo sport ovviamente. Perché si avvicina oggi comincia il campionato di Serie A ma si avvicina anche quello di Serie B. Prossima settimana il Pescara sarà in campo domenica prossima nell'esordio interno contro il Foggia. Il pronostico di un grande ex come Rebonato che dice Pescara fidati di Gans, Memmusciai e Zampano in partenza, Nicastro verso la Salernitana. E poi per le altre squadre abruzzesi il Teramo ci ripensa e dice no a Sansovini. L'Aquila invece prende un ex terramano anche se è stato poco come De Julis. Andiamo nell'articolo di spalla. La polizia in pedalò per catturare il ladro fuggito sulla scogliera. E poi scendiamo. Si torna a parlare del famoso tombino elettrico che ha creato dei disagi a Pescara e non solo. Tombino elettrico. La procura apre un'inchiesta. C'è la denuncia dei padroni del cane folgorato. Anche il comune vuole che sia fatta chiarezza. E poi altre testimonianze della strage di Barcellona, noi sfiorati dalla morte sulla Rambla. Allora, leggiamo l'introduzione al pezzo. Ci sono degli abruzzesi che sono stati sfiorati dalla morte sulla Rambla giovedì pomeriggio a Barcellona. Abbiamo sentito gente che urlava, visto il furgone killer e gente che fuggiva da tutte le parti. I racconti sconvolgenti di chi era presente. E poi andiamo a fondo pagina per una notizia di cronaca Pescara dal Baby Pusher. Droga ai ragazzini. Chiudiamo con le prime pagine locali. Andiamo sulle prime pagine nazionali. Davvero emblematica la prima pagina di Repubblica. Praticamente è una foto della commemorazione a Barcellona, soprattutto sulla Rambla. Il titolo anche qui è emblematico. Il mondo in una strada. La Rambla, integrazione, che dobbiamo difendere. Nell'attentato di Barcellona sono morte persone di 35 nazionalità. E questo è il modello globale che vogliono distruggere. Ovviamente pagina tutta dedicata a Barcellona. Invece sul Corriere della Sera, come vedete, l'apertura è sempre dedicata ai fatti accaduti in Spagna. Ma ci sono anche altre notizie. L'attentato di Barcellona volevano centinaia di morti. Le indagini, il commando preparava anche alcune autobomba. Tra le 14 vittime, due turisti italiani. Un altro attacco a Cambridge, ucciso il killer della Rambla. Il fratello Incella era stato a Viterbo. Questo è un retroscena. E poi le storie dei due ragazzi, purtroppo, che sono rimasti vittime dell'attentato storia di Bruno e Luca, che amavano i viaggi. Ovviamente questi attentati hanno anche delle conseguenze sul fronte interno. Il ministro Minniti, che dice, espulsione ai blocchi, così ci difendiamo. Nessun paese, dice il ministro dell'Interno, è immune. E in basso, politica internazionale, sei fuori. Trump caccia lo stratega. La Casa Bianca decide di licenziare Steve Bannon. Lui ribatte, sono stato io a dimettermi. Poi, notizia interessante, Norcia, la vittoria dell'hotel risorto dopo il terremoto, premiato a Las Vegas, e si tratta di Palazzo Seneca di Norcia. È stato premiato come hotel dell'anno. La stampa quotidiano torinese, Spagna, la strage delle famiglie, le vittime italiane delle Ramblas. Bruno faceva scudo ai figli. Luca strappato dalla mano della fidanzata. Decine di migliaia di persone in piazza con Felipe. La penisola iberica, cuore dello scontro con il jihadismo. In Finlandia, un uomo accoltella i passanti. Due morti e sei feriti. E questa è anche, ovviamente, la foto che ritrae, insomma, le tante persone che commemorano le vittime della strage di Barcellona. A Barcellona braccano gli estremismi, le analisi. Cambrils, la cellula del deserto. E poi il reportage. Nella casa nascondiglio del terrorista bambino, Musa aveva 17 anni ed era la mente. Il bambino lo chiamano ancora tutti così. Musa Ukabir è uno dei componenti del commando della strage proprio sulle Ramblas. Il silenzio della campana che dice Non abbiamo paura, lo sgomento sulla piazza della città ferita. Andiamo avanti. Messaggero, ma edizione nazionale. Italiani uccisi da killer ragazzini. Identificati due connazionali travolti dal van a Barcellona. Timori per una terza persona dispersa. Abbattuti terroristi, tutti giovanissimi. Progettavano altre stragi. Attentato in Finlandia. Due morti in alto. Università, borse di studio. L'Italia quasi ultima in Europa. E poi lo sport via al campionato. Roma, la Juve nel mirino. Sogno Champions per la Lazio. Ovviamente il messaggero per quanto sia la pagina nazionale. Essendo quotidiano prettamente capitolino. Romano ha il focus sulle due squadre della capitale. E poi, in retroscena, una vacanza che in un attimo si è trasformata in orrore. Luca, la prima volta in Spagna, scriveva kamikaze killer di sogni. Bruno sul viale con la famiglia. Morto per proteggere il figlio. E poi, torniamo negli Stati Uniti. Blitz della Casa Bianca. Trump licenzia Bannon. Stratega dell'ultradestra. Il tempo. Vediamo un titolo che ritorna ovviamente sull'attentato in Spagna. Isis Bastardos. Hanno un nome i due italiani uccisi. Siamo braccati dal male. Scrive Marcello Veneziani. E non sappiamo reagire. E poi, i familiari dei morti a Dacca. Noi dicono siamo stati dimenticati. Guai se la politica snobba i parenti dei nostri martiri. Poi il siriano diventato simbolo. Lui censurato. Il bimbo vittima della Gihad. Discriminato dai buonisti. In alto. Andiamo proprio sulle questioni romane. Le torri dell'Eur. Ci costano 328 milioni. Arriva il conto in Campidoglio. CDP e Telecom chiedono i danni alla Raggi. Per il no ai lavori. Panico in comune. Se bisogna pagare. Salta il bilancio. Scendiamo a centro pagina. Cronaca. Coltella ai passanti. Inneggiando da là. Ancora sangue in Europa. Finlandia. Killer fa due vittime. Si dà la fuga. I media spagnoli. Tutti uccisi. I terroristi. Dell'attacco di Barcellona. E poi, per la politica. Un altro successo, ovviamente ironico, del PD. Debito pubblico da record. Superato a quota 2.281 miliardi. Libero. Accoglienza uguale scemenza. Importiamo assassini e li coccoliamo. Ovviamente titolo molto forte da parte di Libero. Quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Gara di buonismo dopo l'attentato di Barcellona. Ma quelli che dicono non ci faranno cambiare stile di vita sono gli stessi che non rinunciano a ospitare i musulmani che ci odiano. Così però uccidono noi e i nostri figli. In Finlandia, il paese più sicuro al mondo, ovviamente, tra virgolette, è stato scritto appositamente. Due morti e otto feriti al grido di Allah Akbar. E poi alcune frasi di alcuni personaggi. Per esempio il Presidente della Camera, Laura Boldrini. Allontanare i migranti e rimandare il problema del Presidente del Senato, Pietro Grasso. L'accoglienza sia un dovere morale e giuridico. Insomma, vengono raccolte alcune frasi recenti di qualche tempo fa, di alcuni personaggi illustri, per dimostrare evidentemente che probabilmente, almeno questa è l'intenzione del giornale, che si sbagliavano. La cellula che ha colpito sulle Ramblas i marocchini più pericolosi sono quelli che vengono qua. E poi, cronaca ma di altro tipo, stupra un tredicenne disabile, ma il pakistano è già libero. Niente carcere per il richiedente asilo. In basso. Calano i reati, sale la paura. Colpa della televisione. Pezzo di Filippo Facci. La percezione è peggio della realtà. E poi il ballo del mattone, Silvio azzera i debiti e compra altre case. Ovviamente di Silvio, si parla di Silvio Berlusconi. Il fatto quotidiano. Massacrati in 14 da 4 ragazzini. Volevano usare bombole di gas. Barcellona. Falciare i passanti è stato un ripiego. Il piano era far esplodere il van. Questi sono i terroristi che hanno seminato morte e distruzione in una delle città più belle, turisticamente più accoglienti della Spagna, ovvero Barcellona. E poi le varie analisi. Sotto accusa l'intelligence. Sordo muta, ignorò gli allarmi. Fuori controllo. Ceuta. L'enclave in Marocco che genera Jihad. Vittime italiane. Bruno e Luca. Ingegneri uccisi sulla strada. Parliamo anche di politica. Renzi abolisce le primarie. Vuole scegliersi tutti i parlamentari del Partito Democratico. Intese troppo larghe. Pace tra Berlusconi e la Merkel. La bufala che prepara l'inciucio. E poi appalti e mazzette. I messaggi di Romeo per rassicurare. Babbo Renzi su Consip. E poi un racconto di Fabrizio Desposito. Il mio sangue ultra per Diego. Io ferito in trasferta con il Napoli. Storia risalente a 29 anni fa. L'avvenire eugenetica di massa. La Cina seleziona i figli. Analisi sugli embrioni creati in provetta per rimuovere ogni anomalia. Ovviamente a centro pagina c'è il richiamo a Barcellona. Salgono a 14 le vittime civili degli attacchi. La gente in piazza dice non abbiamo paura. Volevano un eccidio. Così Barcellona reagisce. L'Italia piange Luca e Bruno. E ovviamente viene richiesta più sicurezza. Il mattino. Ragazzi che uccidono i ragazzi. La strage di Barcellona è opera di una cellula di ventenni. L'autista del van tra i cinque uccisi della polizia. Due morti italiani. Bruno che teneva la mano al figlio di cinque anni. E Luca neolaureato in ingegneria. E qui ci sono i carnefici da una parte e le vittime da quest'altra. E poi in Finlandia al grido di Alakbar a coltella otto passanti. Due vittime. Un terrore viene definito assolutamente senza confini. Siamo sul mattino dunque per lo sport spazio al Napoli. Scudetto la grande occasione di Sarri. Oggi il via al Bentegodi di Verona. Cambi in difesa e a centrocampo. In vista del ritorno del preliminare di Champions. Con il Nizza che il Napoli ha vinto per 2-0 nella gara di andata. Il manifesto scrive città aperta con una grande foto di Barcellona. Ada Colau al manifesto. Barcellona ha dato una risposta imponente. Siamo una città aperta. Al grido di io non ho paura si riempiono le strade. Le vittime salgono a 14. Due italiane. Le indagini individuano una cellula jihadista di 12 terroristi. 8 morti e 4 arrestati. Un incidente avrebbe costretto a cambiare i loro piani. E poi un'analisi in Marocco e Foreign Fighters. Le reti della narco-jihad. La verità è guerra vera e noi contiamo solo i morti. Ovviamente tenore differente nell'apertura del quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Di tutt'altra estrazione politica. Altro attacco jihadista in Finlandia. Anche due italiani tra le vittime di Barcellona. Ma c'è chi dice che con questo terrorismo bisogna convivere. Invece no. Stroncarlo si può e si deve. E poi a centropagina. Cacciate le suore nel convento i profughi. Dissidio nel Salernitano intorno al monastero di proprietà del comune. Il sindaco dice convivete. E poi in basso. Il re dei thriller contro Amazon è disumana. James Patterson contesta la Silicon Valley. Evidentemente per condizioni di lavoro non proprio fantastiche. Il secolo XIX è morto per proteggere i figli. Le vittime italiane. Bruno papà eroe e Luca ingegnere viaggiatore. Ma potrebbero essere tre. Un altro attacco. In Finlandia uccisi a coltellate due passanti. Sei feriti. Arrestato uno straniero. La Spagna in piazza dopo la strage di Barcellona. Il raid a Cambrils. Non abbiamo paura. E poi la sporca dozzina del terrore. Cinque islamisti freddati dalla polizia. E quattro arresti. Altri tre ricercati. La cellula che ha colpito in Catalogna. Preparava addirittura un'azione ancora più grande. Il sole 24 ore quotidiano prettamente di stampo economico. Non può con un taglio diverso non tornare sulla questione terrorismo. Borse contenuto l'effetto ISIS. Salgono a 15 morti due gli italiani. Il Viminale dice resta alta l'allerta anche in Italia. Dopo gli attacchi di Barcellona. Listini in calo. Poi parziale recupero. Wall Street risale sul licenziamento di Bannon. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi. Partiamo con la Gazzetta dello Sport. Che fa questo collage di tantissime tifoserie. Tutte messe insieme. E il titolo non poteva che essere bentornata. Tutti insieme in una curva per i tifosi delle 20 squadre del campionato. L'attesa è finita. Comincia la Serie A. Allora leggiamo. Qual è il programma della prima giornata di campionato. Ore 18. Juventus-Cagliari. Alle 20.45 Verona-Napoli. Domani c'è la Roma in campo con l'Atalanta. Alle 18. E poi alle 20.45 tutte le altre partite nelle prime giornate. Le prime due giornate saranno giocate di sera anche per venire incontro alle esigenze climatiche. Pronti via. Le favorite subito in campo. Juve-Cagliari. Allegri dice basta presunzione. Andrea Agnelli in visita da Milan e Inter. Per Verona-Napoli ore 20.45. Insigne cerca il cinquantesimo gol. Rizzoli è il debutto della VAR svolta a Epocare. Ma dice l'ultima parola sarà degli arbitri. E poi per il mercato a fare fatto tra il Milan e Nicola Kalinic a fare da 25 milioni. L'ottito invece dice per Keita dico no. Ai ricatti dalla Gazzetta. Andiamo sul Corriere che fa un invito a Juventus e Napoli che saranno le prime a scendere in campo. Stupiteci da una parte Gonzalo Higuain dall'altra. Dries Mertens. Allegri contro il Cagliari. Ore 18. Chiede umiltà ai suoi e punta sulla coppia di Bala-Higuain. Matuidi firma fino al 2022. Sarri a Verona le 20.45 vuole festeggiare vincendo la centesima panchina in azzurro. E si affida a Dries Mertens in alto. L'analisi precampionato di Alessandro Vocalelli. Juve ancora davanti ma dice quest'anno c'è più concorrenza. Donnarumma. Occhio al mio Milan se la gioca con tutti senza fare calcoli. In basso leggiamo altre notizie. La VAR, la rivoluzione arbitrale. Ecco le regole. Per il mercato Inter, Schick solo in prestito. La Samp ci pensa. In Bundesliga, Re Carlo Ancelotti parte forte. Vittoria già e tre gol al Bayer. Per il basket, l'Italia prepara la difesa. Belinelli e la Star. Per la pallavolo, azzurri senza Zaitsev. Lo ZAR a caccia del riscatto. Chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport che, come di consueto, dedica amplissimo spazio alle formazioni torinesi in particolare e alla Juventus. Torinesi in generale e alla Juventus in particolare. Juve, un'altra storia. Ora e 18 allo Stadium contro il Cagliari parte la caccia al settimo scudetto consecutivo che proietterebbe i bianconeri oltre la leggenda. Da cancellare le perplessità emerse nelle amichevole in Supercoppa. Higuain ha famato di gol. Per Toni ne farà 40. Matuidi ufficiale ed è subito convocato. In alto c'è anche uno spazio un po' più piccolo, bisogna dirlo, per il Torino. Mijailovic, Tentaniang, preso il talento bianchi. In basso dei box per le altre formazioni. Napoli, Sarri a Verona per sfatare il tabù della prima giornata che ai Partenopei non porta particolarmente bene. Il Milan arriva all'Ok Viola, adesso Calini c'è il rosso-nero. Inter poche uscite col fair play solo prestiti. Mercato in generale, la Roma mette fretta al Barça per Munir. E il ciclismo, perché parte la Vuelta di Spagna in una Spagna ferita, come avete visto, dagli attentati. Via la Vuelta anche Nibali sarà tra i favoriti. Chiudiamo la prima pagina di mattino 6 con le prime pagine. e rientreremo poi nella seconda parte per entrare all'interno dei nostri quotidiani. Adesso previsioni del meteo, pubblicità e poi torniamo. Seconda parte di mattino 6. Siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani della nostra regione per vedere le notizie che ci riguardano più da vicino. Partiamo dalla pagina di Pescara del quotidiano Il Centro, che si occupa di commercio. I negozi del centro, commercio, piano di rilancio, super sconti per lo shopping. Il Comune svela come reanimare le attività tra Corso Vittorio Emanuele e La Riviera. Previsti anche nuovi arredi delle strade. L'area di risulta si chiamerà parcheggio centrale. A centro pagina, ma il vecchio progetto è finito nel cassetto. Ecco la proposta mai utilizzata della precedente giunta di centrodestra. E costata 23 mila euro, era un piano di mai utilizzato, documento per la realizzazione del nuovo centro commerciale naturale a Pescara. Andiamo sull'altra pagina di Pescara. Partiamo dall'alto per vedere una notizia di cronaca. ruba una borsa e si tuffa in mare. Un ladro inseguito col pattino da un addetto alla sicurezza e dalla polizia. Ovviamente arrestato. Viaggiavano su due, con due mezzi molto differenti. Uno con le braccia, evidentemente, e chi lo inseguiva con il pattino. A centro pagina, controlli negli stabilimenti balneari, che è una cosa abbastanza ricorrente, ma a quello che si trova spesso è abbastanza inquietante. Muffa, incrostazione in cucina, ristorante sul mare, chiuso dai NAS. A Piazza dei Gru, invece, spaccia i minorenni, arrestato un diciassettenne. In basso, protesta per la musica assordante. Guerra dei Decibel tra i residenti di Via Buozzi e la Movida, in zona Madonnina. Ovviamente si scontrano esigenze un po' differenti. Rimaniamo sempre a Pescara per parlare di sanità, di ospedale. Un hospice più grande per i malati di tumore. Il primario di oncologia, Carlo Garufi, lancia la proposta e chiede rinforzi. Abbiamo due infermieri per coprire ogni turno, ma, dice, ne servirebbero. Tre. Di spalla, nel 2016, è salito del 119% il ricorso alla chemioterapia. In basso, comune in lutto per Annalisa Mosca, dipendente comunale. E poi, Salvi, ex Telecom, muore a 50 anni, lavorò Maurizio Salvi, che vedete nella foto, anche a Pescara. Un altro addio, quello ad Attilio Mancini. Una vita per il giornale, ispettore del centro, per 14 anni. Cambiamo pagina e andiamo sulla notizia, di cui c'è anche il richiamo in prima pagina. Questa storia, se vogliamo, anche abbastanza particolare, ma soprattutto crudele. Ascensore rotto da dieci giorni, disabili prigionieri dentro casa. La segnalazione arriva da un edificio di sei piani, di proprietà comunale in via dalla chiesa. Allarme anche a Santa Filomena. Quando piove, la centralina elettrica si riempie d'acqua. Ed è davvero incredibile che accadano ancora cose del genere. E purtroppo, soprattutto per i disabili, ma anche gente anziana, diventa davvero complicato uscire dalla propria abitazione. Di spalla, festa del Praterono, San Silvestro Papa. Adora domani, l'apertura della mostra. La notizia che abbiamo letto anche qui, con un richiamo in prima. Tre lauree in quattro anni, premiata nonna super studentessa Elisabetta, ottenuto il primo titolo accademico a 67 anni. Da ragazza non ho potuto studiare, aspettavo un bambino. Davvero tantissimi complimenti, soprattutto per la costanza in un'età, insomma, non proprio da studente. Davvero complimenti. Il prossimo obiettivo, un master sul mare. E sul lungomare sud sarà un fine settimana tra Bancarella e Movida. C'è la Fiera del Mare, stasera lo spettacolo di Perrotta, feste negli stabilimenti. Cambiamo pagina. Andiamo sull'area metropolitana, soprattutto a Francavilla. Fonte Chiaro, via comunale ridotta a una mulattiera. Protestano a Francavilla i residenti, gli imprenditori agricoli che attendono da mesi lavori di ripristino su una carreggiata stradale costellata da buche profonde. Qui vedete anche delle immagini. E poi andiamo a Spoltore, perché Dado incanta. Spoltore Ensemble, grande successo al festival con il comico di Zelig. E la musica dell'Italian Swing. A Montesilvano, opere incompiute, traffico abusivo sulla strada fantasma, la nuova carreggiata tra Montesilvano e Città Sant'Angelo da anni asfaltata e mai collaudata e attraversata da auto e bici. E poi la proposta, rimanendo sempre a Montesilvano, l'area dei grandi alberghi, chiamiamola Piazza Italia. Torniamo a Spoltore, ma per un'altra questione, disinfestazione antizzanzare al via da martedì 29 agosto. E poi spettacoli, belle d'Italia in passerella. Domenica Montesilvano, una tappa del concorso per Miss. Ancora, in provincia di Pescara, all'anno isolato per i troppi incendi, SOS del vice sindaco Cuzzi dopo i roghi in sequenza che hanno devastato il paese. La situazione è migliorata in serata. In alto Rigopiano scatta il divieto per i picnic, questa nella foto è il sindaco Ilario Lacchetta e nella foto si vede l'incendio sul Montesiella, visto da sotto il canalone di Rigopiano, Montesiella che ieri era tornato purtroppo a bruciare. A Popoli invece, Folla e Incanto al Certame, Pienone in Piazza della Libertà per la rassegna medievale con Corteo e Palio. Andiamo a Chieti. Impieghi per disabili, fresatori e meccanici, petaccia, mansioni impossibili proposte dalla provincia. La rappresentante dei diritti diretti occorre cambiare a monte la legge 68 che ormai è datata. In basso il boom di presenze è abbasto, in 100.000 operatori soddisfatti, ma il rovescio della medaglia è la carenza d'acqua. E il sindaco dice, facciamo il possibile. All'Aquila. 20 anni fa il delitto del morrone, una tragica ricorrenza. Domani i familiari delle due ragazze venete uccise torneranno sul luogo del duplice omicidio. La perdonanza e il jets, ecco i metal detector per la sicurezza. Sempre all'Aquila l'incendiario brucia anche la cella. Di Gian Battista è in carcere per aver dato fuoco a un palazzo e provocato una vittima e ha dato fuoco persino alla cella dove si trova recluso. Cambi climatici, riallaghiamo il fucino. La proposta del professor Giannini nella relazione che sarà presentata in un convegno a Tagliacozzo. L'ultima volta di questa proposta fu da parte dell'ex sindaco di Avezzano, Spallone. A Teramo, artigiano bruciato, una pista nei Balcani. I resti carbonizzati di Silvestre, di Tortoreto, trovati nove mesi fa alle porte di Ascoli. Indagini serrate per trovare i killer. Esaminati i tabulati. Un contributo notevole è arrivato dall'esame di svariate telefonate. L'uomo era sparito da casa proprio la mattina del 15 novembre. E poi, naufragio a Giulianova, fallito il primo tentativo di recuperare Leliana. Per quanto riguarda la televisione, Teleponte di nuovo oscurata. Sospese le trasmissioni dipendenti in ferie a tempo indeterminato. Cronaca. Arrestato con sei chili di droga in casa. In carcere un trentenne napoletano. Cocaine e hashish erano destinati alla costa vibratiana. Cambiamo giornale adesso, prima di andare sullo sport, perché tra un po' leggeremo insieme lo sport. Ma andiamo sul messaggero. Sulla videoconferenza di ieri del presidente della Giunta regionale, D'Alfonso, con il nuovo capo della protezione civile, Borrelli. E D'Alfonso dice a Borrelli, sbloccate subito le case di emergenza. Il governatore al nuovo capo della protezione civile nella regione sono necessari 225 moduli abitativi. Satanismo, dopo l'allarme di Bracco, spuntano i riti in chiesa a Giulianova. E questa è una foto, la didascalia è chiara. Riti anomali a Giulianova. Andiamo adesso a Pescara. Giunta un altro weekend di attesa. Neppure l'intervento di D'Alfonso riesce a sbloccare l'impasse. Sindaco Alessandrini, non ufficializzeremo nulla fino a lunedì. Il governatore è d'accordo su Gianni Teodoro nell'esecutivo al posto di Diodati, ma Di Matteo e gli alleati confermano il loro no. E in alto diventa sempre più complessa la ricomposizione del quadro politico, nonostante il pressing del governatore. A centropagina, patto con il PD, Veronica e la quota rosa. Il boomerang delle buone intenzioni. Anni di rapporti maidiliaci tra il primo cittadino e la lista civica. E nella trattativa entra anche il terzo mandato da parlamentare della deputata, Vittoria Dincecco. Tombino elettrico, aperta un'inchiesta. La procura indaga in base alla denuncia dei proprietari del cane folgorato. Anche il comune vuole fare chiarezza. Sempre Pescara e anche area metropolitana, le testimonianze. Noi sulla Rambla durante l'attentato. Una ragazza di Chieti, ho sentito le urla e visto tutti scappare. La polizia ci ha fatto entrare in una chiesa dicendo di non uscire. Carlotta aspettava la madre Maria Grazia, la boccheria. E' un miracolo che nessuno di noi sia rimasto coinvolta. Poi la sospensione. I carabinieri del NAS chiudono uno chalet. Rigopiano. Sette mesi dopo. Ieri era 18 agosto. Quindi sette mesi esatti dalla tragedia che ha sconvolto Rigopiano e la nostra regione. Il giorno degli eroi premiati a Lido di Camaiore, i vigili del fuoco che intervennero in quelle giornate davvero maledette nel resort. Andiamo all'Aquila. Reis Romoli da acquistare con il tesoretto dell'Inail. Il programma di mandato del sindaco Biondi nella struttura a un centro di alto livello. Tra gli obiettivi anche il liceo sportivo da ospitare nel progetto e case di Assergi. Di spalla ecco il ventiduesimo elenco fondi per le frazioni. Il dirigente Fabrizi d'ora in poi sempre più pratiche per i paesi. In basso lotta allo sballo. Ancora droga sui pullman. Fermati altri due corrieri. Proseguono senza sosta i controlli delle fiamme gialle per stroncare i rifornimenti. Operaio invece caduto dal tetto. Quattro persone condannate. La sentenza. Sempre all'Aquila. Da tutto il cratere per il ruolo della dama. Verso la perdonanza. I 25 hanno presentato la propria candidatura. Nei prossimi giorni la scelta e l'ufficializzazione del comitato. Sono imponenti le misure di sicurezza per la manifestazione. Anche 150 uomini in campo per gli eventi principali. A centropagina. Agricinema. Proiezioni vicino agli agriturismi. Andiamo ad Avezzano e sul Mona. Pronto soccorso. Arrivano i rinforzi. Ieri in comune Summit. Siamo ad Avezzano. D'urgenza con il sindaco De Angelis. L'onorevole Piccone. Il consigliere regionale Berardinetti. Il manager dell'Asle. Tordera ha annunciato un'assunzione immediata. E l'ha auspicato ampliamento degli spazi per il reparto. E poi a Sul Mona. Purtroppo non è una novità. Sei principi di incendio. Pista dolosa per tutti questi principi di incendio. A Chieti. Alla Villa. Il mercato del martedì. Agli ambulanti servirà la polizza. Si smantella Piazza Garibaldi. Il parcheggio serve per gli utenti del vecchio ospedale. E per la struttura coperta di via Ortona. Si profila una gestione affidata ai privati. L'assessore al Comune di Chieti, Carla Di Biase, sta preparando una rivoluzione. Basta proroghe, dice. E più verifiche. E poi il caso. Troppe richieste di danni. Di Felice, assessore ai lavori pubblici, Raffaele Di Felice, dice. Controlleremo. A Lanciano, emergenza Voragini. Scatta la protesta. Strade a pezzi. Scenario da brividi nell'antica via dei bastioni. Insomma, non è proprio il massimo. Ecco, camminarci. Nove buche si aprono sul Porfido. La rabbia dei residenti. Dal Consiglio Comunale, l'ok per consolidare Porta San Biagio. Disponibili 400 mila euro. I lavori in autunno dureranno 150 giorni. E poi ad Ortona, invece, una notizia che abbiamo dato anche ieri. Ospedale Bernabeo. L'ASL rassicura. La chirurgia non chiuderà. Abbasto, siccità, sprechi e carenza idrica. Ecco la mappa di tutti i disagi. C'è chi paga l'acqua due volte e chi è costretto a lavare i bagni con l'acqua minerale. A Teramo. Carabinieri. Cambio al vertice. Naselli è il nuovo comandante. Il talento colonnello guiderà il comando provinciale. Proviene dalla legione Calabria. Nelle prossime settimane sostituirà Romano. Nel suo passato anche un'esperienza importante alla Nato. Camera di commercio impiegato nel Mirino. Vediamo perché, secondo la Corte dei Conti, sottraeva i soldi delle visure. Ero ansioso, dice. Non ricordo nulla. Incendio di Magnanella. Al vaglio le segnalazioni. Poi in basso, scuole e genitori di nuovo pronti a scendere in piazza. La protesta chiedono chiarezza sugli indici di vulnerabilità sismica degli edifici. Tra un po' torniamo sui due quotidiani. Ma visto che stiamo parlando di Teramo, andiamo proprio sulle pagine della città quotidiana della provincia di Teramo, che ovviamente si occupa delle questioni riguardanti il capologo Aprutino con un maggior focus. Renzo Di Sabatino striglia i dipendenti e resta al suo posto. Il Presidente invia una lettera di richiamo a funzionari e dirigenti per il rimpallo di competenze tra gli uffici. Per Di Sabatino nessuna dimissione in vista per partecipare eventualmente alle elezioni politiche. E poi l'attentato a Barcellona. Ho visto il terrore sui volti della gente che cercava di salvarsi la vita. La testimonianza del terramano Antonio de Remigis, presente nella città catalana per motivi di lavoro. Sempre a Teramo, porta romana, simbolo della città abbandonata, desertificazione commerciale, e degrado, mancanza di manutenzione dello storico quartiere proprio nel centro di Teramo. Questo è l'ospedaletto, rifiuti abbandonati in strada, marci a piedi rotti e mai sistemati. Insomma, non proprio il massimo. Invece sono stati rafforzati i controlli della Polizia Municipale alla Villa Comunale. Decisione dell'assessore fracassa. Scuole. Torniamo sull'argomento scuole. Pronta una nuova manifestazione. Mamme diffidenti sull'esito delle nuove verifiche. Pronte a scendere in piazza. Presentate le richieste in questura. Vediamo i dubbi sulle verifiche. Come è possibile che siano state così veloci quando per le prime c'è voluto molto più tempo. Si chiedono le mamme che ovviamente sono preoccupate per il ritorno a scuola dei propri figli. In provincia cronaca, beccato il pusher della costa teramana, i carabinieri del nucleo investigativo arrestano un trentenne napoletano nella base di Porto Sant'Elpidio. 6 kg di droga e di banconote false per 10.000 euro. A Fano Adriano, sbalzato dalla moto, fa un volo di 5 metri. Centauro cade oltre il muretto mentre percorre la statale 80 a Fano Adriano. Recuperato dai vigili del fuoco, due fratture per lui. Il motociclista ha riportato la frattura scomposta di una gamba e quella della spalla sinistra. E poi, cronaca e torniamo sull'evento tragico dell'altro ieri, autista del TIR indagato per omicidio starradale. La procura sequestra i due mezzi coinvolti nella tragica morte di Gloria Duranti, che lo ricordiamo ha perso la vita, doveva essere stata travolta da una ruota che si è staccata da un camion, davvero una fatalità incredibile sull'autostrada A14. Andiamo a Giulianova, per parlare di politica. Red Code, Ghiara Guerra, Forza Italia. Avete offeso Giulianova pensando solamente agli interessi di Paolo Gatti. Sfida, vediamo il confronto, Costantini ad un confronto pubblico su quanto ha fatto linea retta per la città di Giulianova, per i carabinieri, invece il capitano Domenico Calore, promosso maggiore. Turismo in crisi, siamo a Roseto. Il PD rosetano chiama in causa la regione. Simone Aloisi e Adriano De Luca, promotori in un tavolo che coinvolga gli amministratori di tutta la costa. I commercianti, invece a Pineto, strigliano il sindaco per l'abusivismo dilagante. Nonostante gli annunci dell'amministrazione, la spiaggia resta terra di nessuno e non è stato fatto nulla di concreto. La riserva contesa, ovviamente parliamo del Borsacchio. Ora vedremo chi è il vero sindaco di Roseto, l'ex assessore Fabrizio Fornaciari, caustico sul duello tra Ginobble e Di Girolamo per l'affidamento proprio del Borsacchio. Andiamo sulle pagine dello sport che tra un po' ritroveremo per il calcio. Vedrete che nella parte dedicata alla Serie C ci sarà la questione Sansovini, Teramo Sansovini dietro fronte almeno per ora. Dopo aver proposto di spalmare l'ingaggio e tornare in rosa, il Teramo ci ripensa e ora deve trovare un centro avanti. E allora andiamo adesso sullo sport del quotidiano Il Centro per ripartire dalla Serie B. Le parole del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, su del sole, gli occhi delle big di Serie A e come potrebbe essere diversamente. Interessamento di Juve Milan, Inter e Napoli, c'è la fila per questo che è davvero un gioiello, della cantera biancazzurra. Ma serve, dice una proposta indecente, Zampano vicino al Chievo? Vedremo. Per il momento, assicura, non ho ricevuto risposte adeguate. Poi, su alcune trattative di mercato, ma non solo, su Bastoni e Van Oysden, siamo in attesa delle risposte di Atalanta ed Inter per i due difensori. Dall'altra parte il ritorno nel club di Oliveri per le persone come lui, dice Sebastiani. Le porte sono sempre aperte. E poi, venduti più di 4.000 abbonamenti, oggi si chiude la campagna abbonamenti del Delfino. E poi, l'intervista a Berlinghieri, tornare a Pescara è sempre una bella emozione. Eccolo qua, di nuovo la questione Sansovini a Teramo. Il Teramo ci ripensa, il bomber Sansovini resta fuori squadra. Lo scarso feeling con la piazza induce la società a fare dietrofronte dopo l'offerta di reintegro dell'attaccante. E poi, l'intervista all'imprenditore frentano Gilberto Candeloro, che racconta lo sbarco nel mondo del pallone dopo essere stato per anni sponsor della Virtus Lanciano. Candeloro, io e Francavilla, la stessa voglia di crescere. Solidità, visione e professionalità per fare calcio a certi livelli. E poi spiega, stiamo ripartendo da zero, il primo obiettivo è arrivare in C in breve tempo. I modelli? L'Atalanta, Ipozzo, Udinese. E il mio amico Giulini, presidente del Cagliari, dopo un'intervista molto, molto ampia. In basso, invece, c'è una notizia di mercato che riguarda sempre la Serie D, ma riguarda i nero stellati Pratola. C'è De Rosa sulla fascia, il senegalese Ndiaie firma per il San Nicolò. L'attaccante De Julis, invece, firma per l'Aquila. basket e poi andremo sul messaggero per chiudere. Casa grande con Roseto, ho un'altra sfida da vincere. Domani il raduno della formazione rosetana e l'ala è la sola conferma della passata stagione. Riparto a difesa aggressiva e corsa in contropiede. E un tiro da tre più preciso. In Serie B l'amatore rinnovata da oggi torna al lavoro. Andiamo adesso sulle pagine dello sport del messaggero. Pescara ascolta Rebogol. Parla Stefano Rebonato. Ganz è un attaccante forte, micidiale in area. Ha solo bisogno di sentire la fiducia. La mentalità di Zeman, come quella di Galeone, è ideale per la città. Il mio passato biancazzurro? Ci penso ogni giorno. Questioni di mercato. La salernitana Sunni Castro. Lo Tito pressa Sebastiani. Sfondato il muro dei 4.000 abbonamenti. E poi in basso vincono i tifosi. Il Teramo rinuncia a Sansovini. Dopo aver proposto un riavvicinamento. Nuovo passo indietro della dirigenza. Decisivo. Il malumore da parte dell'ambiente. E poi ancora calcio di Serie D. Paris-Giampaolo dovevo prenderlo un mese fa, confessa il presidente dell'Avezzano. All'Aquila invece De Julis ce la firma. L'Aquila ha il suo bomber. Il prossimo colpo sarà un esterno o un centrocampista. Ancora Serie D. L'Avastese scopre il giovane Alberico. In basso facciamo proprio il giro. Poi leggeremo la notizia centrale, ovviamente. Ma restiamo sulla Serie D. San Nicolò Presondiaie per rinforzare la difesa. In basso, Nero Stellati, la fiducia di pace. Indì, non saremo una meteora. Andiamo adesso sì a centro pagina. Nicolai in crescita avanti nell'europeo. L'Ortonese in coppia con Lupo approda il terzo turno della manifestazione continentale. Battendo gli austriaci. Gli azzurri chiudono in testa il girone. Si preparano ad affrontare una coppia norvegese. E infine, a Dugna, per il podismo batte ancora tutti, alla notturna di Notaresco. Questa era l'ultima notizia che leggiamo per oggi. Il mattino 6 finisce qua e ritorna ovviamente lunedì. Lunedì, sempre alle ore 8, per stare insieme e leggere i quotidiani nazionali e regionali. L'informazione TV6 invece torna oggi alle 14 con la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.